Musica Salve, benvenuti a Competere Health & Care E' arrivata la primavera, parleremo di dieta detox con la dottoressa Rita Celio, biologa e nutrizionista La cinarina però, una volta cotta, perde le sue proprietà E quindi abbiamo bisogno di consumare il carciofo crudo E dunque tagliarlo a fettine e metterlo nelle insalate, condirlo con olio e limone Può essere consumato in questo modo, così che la cinarina possa svolgere il suo effetto disintossicante E oltre alla cinarina, il carciofo contiene anche l'inulina Che è contenuta anche nella cipolla Che è un'importante fibra che ha lo scopo di traghettare le sostanze indesiderate Che possono essere sostanze chimiche oppure ormoni presenti negli stessi alimenti che ingeriamo Dunque la fibra traghetta queste sostanze indesiderate attraverso l'intestino Diminuendo il tempo di permanenza di queste sostanze all'interno dell'intestino E portandole direttamente al colon da cui poi vengono espulse tramite la defecazione L'allicina presente all'interno della cipolla che conferisce il tipico sapore alla cipolla È ricca anch'essa di antiossidanti ma soprattutto ha un forte potere antibatterico disinfettante intestinale Quindi anche la cipolla ha le sue proprietà in merito ad una terapia detox C'è inoltre il tarassaco, il radicchio detto anche dente di leone Il radicchio per esempio insieme al tarassaco hanno una duplice utilità sul fegato Con la gogo coleretica Cioè va praticamente ad migliorare lo smastimento di acidi grassi Ed è decongestionante per il fegato Quindi ha un effetto disintossicante Inoltre ha la seconda utilità E cioè quella di diuretica Quindi va ad sollecitare l'eliminazione di tossine Ed dunque va ad diminuire quella che è la ritenzione idrica Il consiglio che comunque do a prescindere da qualsiasi alimento viene utilizzato Per sollecitare tali meccanismi è sempre bene bere tanta acqua Tanta acqua è consumare una quantità di alcol molto molto bassa In quanto l'alcol è tossico per il fegato E quindi ci inibisce la capacità da parte di una terapia detox di sollecitare i meccanismi depurativi Sottolineo però che questi consigli sono generici Non sono individuali E quindi ogni alimento va dosato Va assunto in base al consiglio che uno specialista biologo nutrizionista può darvi In quanto ogni organismo è a sé Ha un proprio metabolismo Ha un proprio obiettivo da raggiungere Quindi voglio sottolineare questo Cioè diffidate dalle fake news O da articoli o da detox Che sono scritte diciamo in genere Su internet, sui social, su giornali Oppure da diete Che vi vengono diciamo date tramite altre persone Perché ognuno ha una propria caratteristica E quindi dobbiamo far fede a quello che il nostro organismo richiede Detto questo voglio fare un piccolo esempio Per farvi capire diciamo il concetto Il pompelmo Il pompelmo è un frutto dalla potenzialità antiossidante Anch'esso Ed ha un flavonoide Che conferisce il sapore amaro al pompelmo Che è la naringina La naringina ha una duplice potenzialità Una dupliciazione E cioè da un lato va ad diciamo abbassare il livello di zuccheri Di colesterolo nel sangue Quindi il pompelmo è un frutto Oltre ad essere ricco di vitamina C Anche ipocolesterolemico Ipoglicemico Mentre d'altro canto La naringina va ad agire Va a interferire Con dei meccanismi che avvengono nelle cellule epatiche Che cosa fa la naringina nelle cellule epatiche? Va ad inibire lo smaltimento La metabolizzazione Ecco Di farmaci O di altri nutrienti E quindi in un soggetto Che Diciamo per una condizione patologica Personale Assume farmaci Ingerire un frutto Che da un lato è positivo Dall'altro invece è negativo Perché appunto Chi assume farmaci Non può ingerire pompelmo Perché la naringina Va ad Diciamo alterare Lo smaltimento Dei farmaci O meglio proprio Il metabolismo Dei farmaci Dei farmaci che assume E dunque Che cosa Che cosa Possiamo fare? Possiamo affidarci A consigli Che leggiamo sui giornali? No Perché Un alimento Per una persona Può andar bene E per un'altra No Dunque Per sottolineare Questo aspetto E cioè Che bisogna affidarsi A uno specialista Del settore E farvi seguire In merito ai vostri obiettivi Tramite una terapia alimentare Personalizzata Voglio concludere Con un detto Se pensi Che un professionista Ti costi tanto Non sai Quanto può costarti Un dilettante Prima Che un professionista Grazie a tutti